Oltre che a ridurre delle dominanti estreme, il miscelatore canale ha anche una funzione precisa in un'altra manovra, che viene chiamata la manovra sul verde, e serve per enfatizzare il verde nella vegetazione. È molto semplice. Partite da un'immagine RGB, create un livello di regolazione miscelatore canale e andate a selezionare come canale in output il canale del verde. Come sappiamo, in origine il canale del verde sarà composto da 0% di rosso, 100% di verde e 0% di blu. Questa non è una grande scoperta. Andiamo a fare questa operazione. Andiamo ad aumentare questa percentuale di un tot, di un certo numero. Diciamo che passiamo, per esempio, da 100 a 120 e vediamo cosa succede. Questo è il risultato. Tutta l'immagine diventa molto verde. Ma tutto torna più o meno normale, come vedremo, nel momento in cui andiamo a togliere al verde una percentuale di blu pari a quella che abbiamo appena aggiunto. Quindi, per passare da 100 a 120, ho aggiunto 20. E qui andrò a digitare, quindi, meno 20%. Osservate. Guardate la vegetazione. Eravamo così ed è arrivata così. Da così a così. Decisamente più verde. Qual è il problema? Il problema, naturalmente, è che è cambiato anche il cielo. Questa, come comprendete, è una manovra che si fa tipicamente sui paesaggi, quindi questo è un effetto tipico. Andiamo a vedere se è possibile mettere rimedio a questa cosa. Chi ci viene in aiuto? Ovviamente una maschera di livello. Una maschera di livello che vogliamo basare, a questo punto, su un canale. Andiamo a vedere come sono fatti i canali di questa immagine. Questo è il rosso. Questo è il verde. E questo è il blu. A me sembra che il blu sia assolutamente perfetto per fare una maschera. Perché? Perché ciò che vogliamo è esattamente una maschera che vada a far passare l'effetto qua sotto, quindi sia molto chiara nella montagna e molto scura nel cielo. E questo canale, per sua natura, mi sembra proprio essere il blu naturalmente invertito, perché il blu, nativamente, è chiaro sopra e scuro sotto. Quindi proviamo a selezionare la maschera di livello e andiamo a fare Applica immagine, dallo sfondo andiamo a selezionare il canale del blu e lo invertiamo. Ecco fatto. Vedete? Il canale del blu è invertito, si è depositato nella maschera di livello e a questo punto il risultato è questo. Enfatizzazione del verde senza selezionare nulla e andando a frenare l'effetto collaterale che mi rendeva il blu troppo viola. Questa è la manovra del verde e anche l'applicazione della maschera, magari un po' manipolata se poi ne avete bisogno, è assolutamente canonica. Avendo modificato il verde, andiamo adesso a vedere come possiamo modificare il cielo.